Qual è il ruolo del medico di famiglia nella diagnosi dell'insonnia cronica ma in generale nella gestione di quella che deve essere considerata a tutti gli effetti una patologia? Ne abbiamo parlato con il dottor Giuseppe Ventriglia che abbiamo incontrato qui a Roma presso la sala Nasseria del Senato della Repubblica nel corso di un evento durante il quale è stato presentato il primo policy brief sull'insonnia cronica. Dottor Ventriglia qual è innanzitutto la percezione del medico di famiglia sul problema insonnia cronica. Come viene percepito? Ma il problema dell'insonnia è uno dei problemi certamente più trascurati. L'insonnia fa parte di quei problemi che il paziente tende ad autogestire e a non riferire. Ne deriva che da analisi che la nostra società scientifica, la Sim, già ha effettuato negli anni scorsi ha fatto evidenziato, ha evidenziato proprio questo aspetto che a fronte della presenza nelle patologie croniche di dati assolutamente coerenti con la letteratura corrente, per quanto riguarda le diagnosi di insonnia sono molto scarse. Il che vuol dire da un lato che le persone tendono ad autogestire il problema, a non riferirlo al medico di famiglia e dall'altro che probabilmente il medico di famiglia tende a non considerare l'insonnia, specialmente l'insonnia cronica, come un vero e proprio problema di salute, anche in coerenza col fatto che in generale nella stragrande parte dei corsi di laurea non si insegna nulla rispetto all'insonnia. Dottor Ventrilli, invece il medico di famiglia deve avere un ruolo molto importante e in molti casi sicuramente ce l'ha già nella gestione di questa patologia. Qual è il suo punto di vista su questo aspetto? Il mio punto di vista è che rispetto all'insonnia, che rappresenta comunque un importante problema di salute e che ha un forte impatto sulla qualità di vita e sulla sicurezza delle persone, il medico di famiglia può e deve intervenire in modo proattivo intercettando le persone che hanno una cattiva qualità del sonno, che hanno problemi di sonno e magari gestire anche il grande numero delle persone che invece autogestiscono questo problema con un consumo di farmaci che in molti casi è veramente sconsiderato. Senta, oggi qui alla Camera è stato presentato un documento molto importante, un policy brief che fa il punto sulla patologia ma che dà anche delle linee di indirizzo e contiene delle richieste precise. Quali sono quelle più importanti dal suo punto di vista? Ce ne sono molte e certamente i colleghi avranno commentato quelle di pertinenza delle varie strutture che hanno contribuito a redigere questo policy brief. Per quello che riguarda l'area della medicina di famiglia posso dire che abbiamo fatto notare la necessità di intervenire con campagne di comunicazione sulla popolazione generale che deve essere consapevole che il sonno è una componente fondamentale della nostra esistenza e che ha un fortissimo impatto sia sulla qualità di vita sia sullo stato di salute. Per quanto riguarda l'area della medicina generale abbiamo chiesto un forte impegno per promuovere delle campagne di formazione nei confronti dei medici di famiglia al fine di sensibilizzarli alla importanza del sonno e della qualità del sonno e di sensibilizzarli ad un uso consapevole di tutte le possibilità di intervento farmacologico con una particolare considerazione alle persone che soffrono di insonnia cronica per le quali la collaborazione con i centri specialistici diventa fondamentale.